Buonasera cari massivi e massive Benvenuti a un nuovo streaming speciale di MMO.it Benvenuti a un nuovo Plinius Ex Machina La live in cui discutiamo di tutte le ultime novità E in cui voglio portare alcuni argomenti alla vostra attenzione E poi ne discutiamo insieme Quindi benvenuti, buonasera, mettetevi comodi Ecco vedo che siete già tantissimi, grandi ragazzi Cari massivi e massive, tutti massivi Allora tra l'altro per questa live di Plinius Ex Machina Ho attivato la chat solo follower Perché? Perché insomma stasera parliamo di argomenti un po' più delicati Argomenti sensibili e quindi voglio parlarne o piacere a parlarne con quella che è la nostra affezionata community Quindi come avete visto dal titolo Ebbene sì, stasera parliamo di soldi Eh eh, di dollari, dollari sonanti Buonasera, buonasera Ragazzi, come state? Allora, eh sì, allora Che dire? È un argomento? Anzitutto permettetemi di dire che è un tema Di cui noi di MMO.it non abbiamo mai voluto parlare particolarmente Vi abbiamo sempre ringraziato per il supporto, per gli abbonamenti, per le donazioni E naturalmente continuiamo a farlo Grazie mille Però non abbiamo mai davvero voluto approfondire l'argomento Forse sbagliando Forse sbagliando Stasera invece ho deciso di parlare proprio di questo Lo so, che è un argomento delicato Tra l'altro spesso nella nostra società Sapete che c'è un... Nella nostra... Nell'immaginaio collettivo C'è un detto che è molto comune, no? Non si parla di soldi Perché non sta bene parlare di soldi C'è un po' questo modo di dire, no? Che non sta bene parlare di soldi E in realtà è un detto sbagliatissimo Perché? Perché in questo modo non si fa altro che giustificare Giustificare lo sfruttamento da parte di chi è più ricco Nei confronti di chi è più povero Perché se chi è più povero non può parlare di soldi E tutti rimangono in questa situazione di, potremmo dire, schiavitù Legalizzata O di sfruttamento O di sottopagamento Ecco, perdonatemi, permettetemi il termine Quindi, questo... Io tra l'altro stasera ci sono solo io Però sappiate che le cose che dico Sono condivise anche dal buon Ask E che vi saluta tutti E quindi credo che sia anche ora Di smetterla con questo tabù Ecco, prima non mi veniva il termine giusto È un tabù, no? Questa storia Eh, ma non bisogna parlare di soldi Eh, ma non sta bene parlare di soldi No, invece è giusto che se ne parli Poi ovviamente senza scadere nella volgarità Nel io ho più soldi di... No, però con serietà Ma allo stesso tempo anche con trasparenza e con onestà È giusto parlarne Con la stessa onestà e la stessa trasparenza Che ci hanno sempre contraddistinto Fin da quando esiste MMO.it nel 2016 Chi tiene i conti MMO.it chiede BD Silma Beh, siamo appunto i fondatori Io Ask Zoe Kravuz Ah, cioè questa sera c'è la Bobo TV Ho capito Beh, grande esti A maggior ragione perché ci seguite Mi seguite nonostante la Bobo TV Grandi ragazzi Allora adesso io mi sono segnato Alcuni argomenti, alcuni temi di cui voglio parlare con voi Poi ovviamente sono anche disponibile Per eventuali domande o dubbi E tra l'altro stasera a mezzanotte C'è la conferenza dedicata a Dragon's Dogma Al futuro di Dragon's Dogma E io dico Vediamo se a mezzanotte c'è ancora qualcuno La seguiamo insieme Molto... La seguiamo e la commentiamo insieme Molto volentieri Ovviamente se a mezzanotte sono rimasto io E uno spettatore Ci salutiamo E ciao E ciaoone Però insomma se a mezzanotte siete ancora qui Belli carichi a seguirmi E allora a mezzanotte facciamo puntatona E maratona Per seguire la conferenza dedicata a Dragon's Dogma Ovviamente sperando che annuncino O un remake del primo capitolo O addirittura Dragon's Dogma 2 Che sarebbe il top Quindi Allora sì adesso ne parliamo ragazzi Adesso ne parliamo Avevo perso le speranze per stasera Ma come? Cosa è successo? Ho perso Salotto martedì Me l'ho rivisto tutto anche se non potevo scrivere in chat Essendo una replica Eh lo so Sasuke Però Su Youtube puoi commentare Sapete che Insomma quando mettiamo i salotti Le repliche dei salotti su Youtube Potete commentare Dovrebbe essere un video per i 10 anni di Dragon's Dogma Dove tutti sperano che annuncino il 2 Non credo sia una conferenza Sì Teo guarda Va bene una conferenza Va bene un video Va bene qualsiasi cosa Basta che ci annuncino qualcosa Maledetti ecco Quindi Ah tu dici che ci trolla una bestia esti E vabbè alla peggio ci sarò alle anno assieme E come si suol dire Meglio essere tristi in compagnia Che essere tristi da soli No Quindi se voi stasera mi seguirete A mezzanotte la commentiamo insieme Ma Prima di arrivare Sono da qui a mezzanotte È lunga ecco È un'ora e quaranta Manca ancora Quindi Allora io Dicevo Mi sono segnato alcuni punti Ovviamente lo sapete ragazzi Breve intermezzo Pubblicità Prima di cominciare Vi ricordo di iscrivervi al canale Di followerci qui su Twitch Se ancora non l'avete fatto E soprattutto Di abbonarvi Per supportare il nostro lavoro E per sostenere il progetto editoriale Di MMO.it Progetto del tutto indipendente E stasera Capirete Quanto è importante Il vostro supporto Perché Parleremo proprio Parlerò numeri alla mano Poi Se avete Amazon Prime O Twitch Prime Potete abbonarvi gratis Al canale E in questo modo Tra l'altro Potete vedere tutti i nostri streaming E anche le repliche Dei nostri streaming Senza pubblicità Quindi l'abbonamento Va innovato ogni mese Perciò Grazie di cuore A chi si è già abbonato O a chi si abbonerà E tra l'altro Ne abbiamo già uno Che si è abbonato Durante la sigla Mi stavo quasi Per dimenticarmi Di ringraziarlo Sarebbe stato un eroe Gravissimo Quindi ringraziamo Enzolino 1999 Che si è abbonato Con Prime Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille Di cuore Avanti così Ragazzi Seguite il buon esempio Di Enzolino Che dobbiamo Lo sapete Insomma E mai Dobbiamo tornare A 100 massivi Postumani Per un nuovo Streaming disagio Su un MMO Misterioso Allora Possibile che annunci Un remake Tedesco Oddio Andrebbe bene anche quello Sicuro non ci sputiamo sopra A un bel remake Di Dragon's Dogma Ma Bando alle ciance Allora Stasera Avete capito Parliamo di soldi Entriamo nel vivo Dell'argomento Perché già vi ho fatto attendere Fin troppo Allora Partiamo Diciamo Con la live di stasera Risponderò A tutte le vostre domande Ecco Noi spesso riceviamo domande Del tipo Ma quanto guadagnate Con MMO.it Ma siete diventati ricchi Oppure Ma con tutti i soldi Che fate Perché non fate di più Cioè perché non portate Più contenuti E le ho detto Qua Insomma Bisogna rispondere Bisogna fare un po' di chiarezza Anzitutto Partiamo Partiamo con un presupposto Partiamo subito Con un po' di polemica Perché lo sapete Che se non c'è la polemica Noi di MMO.it Non viviamo Ci sguazziamo Nelle polemiche No allora Io voglio dire che Questa live In cui si parla di soldi È una live Ad alto rischio Perché Perché In giro sul web Ci sono tanti cazzari I quali sostengono Che Ah Non si può dire Quanto si guadagna Altrimenti Twitch ti banna Ecco diciamo che C'è tanta ipocrisia Su internet Tanta ipocrisia E Io questa roba Devo dire L'ho sentita molto spesso E ci sono tanti Soprattutto in Italia Su Twitch Italia Ci sono tante persone Che dicono Eh no ma non si può dire Non posso dire Quanto guadagno Altrimenti Twitch mi banna Ecco allora Partiamo Iniziamo col sfatare Un po' di miti Questa è una cazzata enorme Una cazzata gigantesca Io non si è mai visto Che Twitch Arriva Il signor Twitch E banna uno streamer Perché ha detto Che ne so Ah io guadagno Tot Cioè non ha senso Con Autofilm E un contratto Non c'è scritto Nessuna parte Che non puoi Che non puoi dire Quanto guadagni Almeno Non nel caso Di uno streamer Ecco Ovviamente Questa cosa Di Twitch E soprattutto Di Twitch Ha preso molto piede Perché Beh Perché c'è un clima Molto C'è un clima Molto Omeroso E molto ipocrita Ma ovviamente Ragionate ragazzi Perché gli stream Soprattutto quelli grossi Non vogliono dire Quanto guadagnano Perché Non vogliono Che si sappia Quanto incassano Ovviamente E quindi La scusa più comoda Qual è Invece di dire Eh no ragazzi Però io Faccio Che ne so Diecimila euro al mese Grazie a Twitch Ad esempio E non ve lo voglio dire E no Invece è molto più comodo Dire Eh ma Twitch Mi costringe a non dirlo Perché se io dico Quanto guadagna Twitch mi banna O Youtube O il signor Elon Musk Ecco Arriva Jeff Bezos Jeff Bezos mi banna Ecco già qui Stronzata gigantesca Galattia Quindi quando uno streamer Non vuole dirvi quanto guadagna È perché Evidentemente Ha dei suoi motivi Ha Diciamo Sì Ha delle motivazioni personali Per cui non vuol dirlo Che ci sta Eh perché Io non sono qui a dire Che Gli streamer devono essere costretti A dichiarare Quanto guadagnano Però Non venisse Non venisse da dire Che è colpa di Twitch Che banna Perché altrimenti Così Ehm È una cazzata Ecco Nella vita Io ho imparato Il valore dell'onestà L'importanza La trasparenza E prima regola Non bisogna dire Cazzate Ecco Quindi Questo Per iniziare Sì certo Se uno vuole dire Quanto guadagna Può anche non dirlo Bomicale Però Io ripeto Non prendiamoci in giro Nel momento in cui uno streamer Va su Twitch E dice al suo pubblico Alla sua community Eh ma io non posso dire Quanto guadagno Altrimenti Jeff Bezos Mi banna Quella È una stronzata Per cui non prendiamoci in giro Poi se uno vuole dirlo Ha tutto il diritto E non dirlo Eh mica viviamo in Iraq Ecco Però Esatto Esatto Va bene Interessante Sono del settore Dico che con il sito MMO.it Non guadagnate Praticamente nulla Non ho visto Le viso mensili Quindi non mi esprimo Oh bravo Allora Vedo che Sasuke È già una persona Di una certa cultura E si porta avanti E si porta avanti Con i tempi Comunque Allora E giustamente Cronos fa notare Sì ok Però Però Andiamo avanti Perché questa è solo La prima stoccata Ehm Poi Allora Siccome C'è tanta ipocrisia Come dicevo No Noi non vogliamo essere ipocriti Non con la nostra community E non con il nostro pubblico Che ci ha supportato Quindi Ehm Quindi appunto Noi Io non abbiamo niente Il punto è che Noi non abbiamo niente A nascondere Ecco Quindi adesso vi spiego Esattamente Quali sono i nostri guadagni Vedo che Sasuke In parte Li ha già anticipati Ehm Anche qui Effettivamente Non ci vuole un genio Per sapere quanto guadagniamo O comunque Per farsi quattro calcoli Ehm Però Ehm Diciamo che Nelle scorse settimane Ho letto alcune cose Ho letto alcuni commenti Che mi hanno fatto capire L'importanza Di fare Questo streaming Perché Perché Ad esempio Mi è capitato Di fare alcune Alcune live Nelle scorse settimane Negli scorsi mesi Ehm In cui Più di una persona Diceva Eh però scusa Scusate Voi che guadagnate Solo grazie a MMO.it Che siete ricchi Grazie a MMO.it Non potreste fare questo Fare quello Portare questo Streamare questo Streamare quello E Insomma Io già Vorrei far capire Che la situazione Non è esattamente Non sta esattamente Le cose non stanno Esattamente così Cioè La situazione Non è così Rosea Ragazzi Partiamo dal Presupposto Che guadagnare Su internet È estremamente Difficile Cioè È possibile Però bisogna Fare numeri Enormi Perché internet In generale La monetizzazione Su web Funziona Per numeri Grossi A meno che Non è una A meno che Non va A meno che Non guadagni Tramite abbonamenti Allora Se guadagni Tramite abbonamenti Puoi avere anche Una community Di nicchia Ma adesso Ci arriviamo Allora Partiamo Un po' Supposto Noi abbiamo MMO.it Il sito Vero e proprio No Ecco Dal sito Vero e proprio Buonasera Intanto Chi si è connesso Buonasera Benvenuto Allora Dal sito Vero e proprio Noi guadagniamo Poco o nulla È Sì Ebbene sì Ragazzi Intendo Poi io MMO.it Che adesso Ve lo linko Anche in chat Perché magari Ci sono Dei nuovi utenti Ecco Per chi non conoscesse MMO.it Il migliore sito Di videogiochi In Italia No scherzi a parte Noi dal sito Guadagniamo poco o nulla Ragazzi Mi sono anche messo La maglietta brandizzata Stasera così Tanto per Perché sì Noi facciamo Buone visite Su MMO.it Però siamo Un portale piccolo Cioè Non siamo Le nostre visite I numeri che facciamo Non sono minimamente Paragonabili A quelli Dei grandi portali Non mi riferisco Solo i grandi portali Internazionali Ma anche Ai grandi portali Italiani Insomma Adesso non c'è bisogno Che faccia nomi Però sapete Perfettamente Che in Italia Sono dei grossi portali Che parlano di videogiochi Lo fanno da 30 anni Cioè Sono siti Che sono stati fondati Negli anni 90 E quindi Si è creato Tutta una serie Di numeri Di un certo tipo Cioè Parliamo di portali Che ogni mese Fanno tot Milioni di utenti unici Tipo 4-5 milioni Di utenti unici Più o meno Ecco noi siamo lontanissimi Da quelle cifre Noi viaggiamo Viaggiamo su Poche migliaia di visite al giorno Circa 2000 visite quotidiane Più o meno Anche lì A volte un po' di più A volte un po' di meno Però più o meno Questi sono i nostri numeri Ripeto Sono i numeri Sono dei numeri Normali Per un portale Per un portale Indipendente Come il nostro Che comunque È nato nel 2016 Non è stato fondato Nel 1996 Quindi è molto più difficile Diciamo Crescere Ed emergere oggi C'è tantissima Più concorrenza Rispetto a quanta Ce ne fosse Negli anni 90 E poi bisogna anche dire Che noi parliamo Di un argomento Più di nicchia Del semplice Videogiochi Perché come sapete Noi siamo specializzati In MMO E videogiochi Online Poi a volte Parliamo anche Con grande piacere Di giochi single player Ad esempio Abbiamo Io e Askezo Come sapete Abbiamo parlato parecchio Di Elden Ring Che ci è piaciuto E abbiamo giocato Però in generale Il nostro focus Sono gli MMO Gli MMORPG E i mondi virtuali Quindi già Come focus Stiamo un po' più Di nicchia E questo Vabbè lo sapete Chiunque ci segue Lo sa benissimo Quindi diciamo Che noi dal sito Allora Andiamo per Andiamo per gradi Io adesso vi spiego Da chi Diciamo Da quali Partner Guadagniamo E più o meno Quanto Di quali cifre parliamo Allora Sul sito Noi guadagniamo Dalle pubblicità Ovviamente Cioè guadagniamo Da AdSense E questo è anche il motivo Per cui Noi Quando possibile Vi chiediamo Cioè noi Vi chiediamo Se possibile Quando visitate Il nostro sito Di visitarlo Con AdBlock Disabilitato Perché? Perché Quelle pubblicità Che sono disponibili Su MMO.it Sono una delle poche Forme di pubblicità Che abbiamo Anche sapete Anche sapete che vi dico Adesso cambiamo Schiammata Così Non vedete Solo la mia faccia Ma mostriamo Qui a MMO.it Ecco Così almeno Vedete quello Di cui stiamo parlando Ecco Allora Eccoci qua Un attimo Che vedo Siete tantissimi In chat Grandi ragazzi Adesso cerco Di leggervi tutti Un momento Buonasera Buonasera Allora siete Siete tantissimi Ecco appunto GB dice Usano tutti AdBlock Ma Tiro GB Allora Anche se non Anche se non Anche se nessuno Usasse AdBlock Comunque Non è che I numeri Sono quelli Considera che voi Avete un pubblico Italiano Gli azzi in Italia Pagano molto meno Che in UK E in USA Ah che bello Sasuke Stasera mi dai Una bella notizia Dietro l'altra Comunque Ah qui si parla Di siti fondati Nel 1997 Bello Io avevo Cinque anni Nel 1997 Si parla Dei contraccolpi Facevo due Entrate al giorno Duecento Entrate al giorno Ah ho capito Allora Allora Si si parla Esatto Esatto BDSilma Quei portali Che citate voi Considerate che sono Dei network Addirittura Multiplayer Si rifà A Bigodino Che è tutta una serie Di portali Di net addiction SRL Quindi è un network Che non comprende Solo multiplayer Ma comprende tipo Dieci siti Che fanno Molte visite Ecco perché parliamo Anche di siti Di cucina Di Di Instablogging E vabbè Però insomma Adesso Esatto Net addiction Ma lasciamo perdere Parliamo Concentriamoci Sul nostro Su mmo.it Allora se noi visitiamo Il nostro bellissimo sito Scusate Devo togliere Ecco qui Vedete che noi abbiamo Qualche pubblicità Queste che vedete Sono tutte pubblicità Di google No Ad sense Anche se entrate Dentro le pagine Sono delle pubblicità Ecco La verità È che Purtroppo Noi da google Guadagniamo pochissimo Cioè ma si parla Davvero di cifre Da elemosina Io adesso Non so neanche Di esattamente I numeri Però Parliamo Ragazzi Non sto esagerando Parliamo Veramente di cifre Da elemosina Cioè robe Che Se vado Cioè Come posso dire Roba che Se vado Davanti al semaforo A fare L'elemosina Davvero guadagno di più Cioè guadagno di più Se io e Ask Andassimo al semaforo A chiedere la carità Davvero guadagneremo di più Ecco Intanto abbiamo Chi è? Saigon Saigon Twitch Che è diventato massivo Grande fratello Vero massivo Quindi 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 dal sito Guadagniamo davvero poco Ecco Poi a volte Per fortuna Capita che ci sono Dei contratti Tra l'altro bella Questa news Su Todowad Paraculo Il buon Todona Date la legge News del buon Vincenzo Grande Diceva a volte Capita che Stringiamo dei contratti Con delle software house O delle compagnie Per Diciamo Avere dei banner Veri e propri Dei banner pubblicitari Che ad esempio Mettiamo qui in alto O Di lato E quelli Diciamo Nel momento in cui Stringe un accordo Con Una compagnia Per un banner Personalizzato Lì di solito Guadagni Qualcosina in più Diciamo che i prezzi Sono un po' più favorevoli Però Nel 99% Dei casi Ripeto Si parla di AdSense AdSense Vuol dire Le pubblicità di Google E le pubblicità di Google Come dire Parliamo di Pochi euro Tra l'altro Considerate che Noi In quanto MMO.it Abbiamo delle spese Perché Ogni anno Dobbiamo Innovare Il dominio Che è un ottimo dominio Tra l'altro www.mmo.it Top dominio E questa cosa Ha un costo Poi dobbiamo Rinnovare L'hosting E questa cosa Ha anche un costo Poi dobbiamo Innovare i serve E anche questa cosa Ha un costo Niente di tutto ciò Non parliamo di cifre Costosissime Ok Che andiamo Sull'astrico Però comunque Considerate che In quanto MMO.it Abbiamo delle spese Per cui alla fine Sostanzialmente Quello che succede È che Se noi parliamo Del sito vero e proprio I guadagni Che ci entrano Da Google Sono talmente piccoli Talmente risicati Che alla fine È come se non guadagnassimo Nulla Perché queste poche Entrate che ci arrivano Da Google Le utilizziamo Per pagare Appunto Le spese Di cui vi ho Spiegato Spese di dominio Sev E hosting Ok Sasuke Guarda Va bene Però Non ho capito Sasuke Cioè Dici tu Quanti soldi Facciamo noi Cioè Nel senso Senza offesa Però io lo so bene Quanto Cioè Saprò dire Quanto guadagniamo noi Ecco Quindi Mi fa un po' strano Che mi correggi Su Su quanto guadagniamo Ecco No Comunque Ragazzi Io vi assicuro Che le cifre Sono queste Sono davvero Davvero Un'elemosina E quindi Ripeto Di fatto Quello che Quel poco Quel poco Che guadagniamo Da Google Poi lo spendiamo Per Sev Dominio E hosting Poi Quindi Questa Prima cosa Google Spiegata Abbiamo visto Prima cosa Poi Poi abbiamo Abbiamo YouTube E da YouTube Guadagniamo Un pochettino Di più Fortunatamente Noi abbiamo Devo voler essere Precisi Noi abbiamo 8900 iscritti Per fortuna Siamo vicini Ai 9000 E poi Ovviamente L'obiettivo È arrivare Il prima possibile Ai 10.000 Iscritti Che sarebbe Fighissimo Quindi se ancora Non l'avete fatto Tra parentesi Anche qui Momento Ubicità Iscrivetevi Al nostro Bellissimo Canale YouTube Ma Parte questo Momento Ubicità Dicevo Da YouTube Noi guadagniamo Qualcosina In più Anche qui Parliamo Di cifre Piccole Considerate Che YouTube Di fatto È di proprietà Di chi Di Google E quindi I soldi Che noi guadagniamo Da YouTube Poi vanno a confluire Nelle entrate Che riceviamo Cioè i soldi Che noi guadagniamo Da YouTube Vanno a confluire Nelle entrate Di Google Quindi Le entrate Di YouTube E le entrate Di AdSense Delle pubblicità Si vanno a sommare E quindi Google ci manda Un pagamento Anche lì Vi fate Un sacco Di soldi Grazie a YouTube No per niente Anche perché Tutti sanno Che i pagamenti Su YouTube Sono estremamente Risicati Soprattutto Da quando Qualche anno fa C'è stata L'Adpocalypse Ve la ricordate L'Adpocalypse Alcuni anni fa C'era stata E da allora Si guadagna Veramente pochissimo Certo Voi direte Ma come Io conosco Gli YouTuber Che sono ricchi Sfondati Sì ok Diciamo che Su YouTube Tutto si basa Sui grandi numeri Se uno YouTube Ha centinaia Di migliaia Di ford iscritti O milioni Di iscritti Ovvio che poi Lì si fa i soldi Diciamo Entrano Delle cifre Importanti Però Anche qui Ricordatevi Che noi Non abbiamo Novecentomila Iscritti Ne abbiamo Quasi Novemila Ecco Ottomila Novecento Quaranta Precisamente Quindi Eh beh Esti In realtà È capitato In diverse live Mi ricordo Ad esempio Dopo Vi Dopo Vi faccio leggere Il commento Perché Lo hanno scritto Anche in uno Dei nostri ultimi Avete presente Quando io pubblico Quando pubblichiamo L'annuncio Del salotto Ecco Se voi andate A leggere Nei commenti Lì abbiamo Ricevuto Delle Critiche Ma ci sta E attenzione Io non dico Che Non ci si possa Criticare È legittimo Criticare Come chiunque Però Anche ad esempio Quando avevo fatto Mi ricordo L'ultimo Streaming Disagio Che ho fatto Quello su Rise Online Ve lo ricordate Rise Online Mamma mia Che giocaccia De merda Lì Durante lo streaming Io mi ricordo Che avevo ricevuto Dei commenti Di utenti Che per carità In buona fede Assolutamente In buona fede Ma erano convinti Che noi Guadagnassimo Solo facendo MMO MMO.it Poi ovviamente La grande domanda È Ve l'anticipo Già Spoiler La grande domanda È Ma voi ci campate Da MMO.it E vi dico Già la risposta No Al momento La risposta È no Cioè solo Da MMO.it Purtroppo Noi non ci campiamo Ma andiamo avanti No no Perché in realtà Niente nomi Quella di stasera Vuole essere una live Che unisce Deve unire La nostra community I nostri utenti Non ha l'intento Di dividere Ora mi scrivo Non l'avevo ancora fatto Grande Rios 86 Vero massivo postumano Grandissimo Quindi Vi ho spiegato Google E YouTube Che poi di fatto Sono insieme Dopo Google C'è Amazon Nel senso Che noi abbiamo Un Noi abbiamo qui Vedete Abbiamo un referral Ed è il motivo Per cui Noi vi chiediamo Come è scritto qui Supportaci Acquistando su Amazon Dal nostro link Allora in pratica Se voi aprite questa scheda C'è un referral Per cui Se voi Adesso acquistate Che ne so Questo pallone Per dire Lo acquistate E una piccola percentuale Va a noi Di MMO.it Anche qui Parliamo di una percentuale Risibile Ridicola Dirla tutta Ma tipo del 4% Una roba del genere Quindi capite Che Anche qui Parliamo di cifre Veramente microscopiche Certo Noi ringraziamo Di cuore Chi lo fa Cioè Se voi potete Fare La prossima volta Che fate un acquisto O degli acquisti Su Amazon Se potete farlo Tramite questo Leferral A noi ci date Una grande mano Per voi Il poezzo è lo stesso Voi non pagate Assolutamente Non pagate un euro in più Però in questo modo Circa il 4% Di ogni commissione Va a noi Capite che anche qui Parliamo di cifre Da sfruttamento Da schiavitù legalizzata Ecco Però E quindi anche da Amazon Quanto ci entra Quanto ci entra Ci entra Ovviamente anche qui Pochi euro Diciamo Ogni tot E quindi Continua L'elemosina La prossima volta Che acquistate un telefono Da 1200 euro Usate il link Di MMO.it Esatto GB Guarda A esti Adesso non mi ricordo Magari non è il 4% Ma è il 3% Comunque Già solo il fatto Che siamo qui A discutere Se è il 3% O il 4% La dice lunga Sullo stato Disastroso In cui Dell'economia Odierna Ecco Ah uh Intanto abbiamo Un nuovo abbonato Chi è? Samus Victory Si è abbonato Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille Di cuore Vedo che Mi ha sentito Mi hanno sentito Grandi ragazzi Che ci supportate Diciamo che Qualcuno potrebbe Definire la live Di stasera Moni Grab Ma in realtà Io Io Ispondo male A chi A chi Ci da Ci da questa accusa Di Moni Grab Perché in realtà Appunto Voglio spiegarvi tutto Con onestà E trasparenza Allora andiamo avanti Quindi Vi ho già parlato Di Google E YouTube Che di fatto Sono insieme Parliamo di Pochi euro Certo Da YouTube Almeno Qualcosina in più Entra Rispetto A AdSense Per fortuna Poi Da Amazon Poco o niente Ragazzi Ma poi Anche lì da Amazon Riceviamo pagamenti Tutti i mesi Cioè fate che Amazon Fate conto che Amazon Tipo ogni sei mesi Ci manda qualcosina Cioè una percentuale Delle commissioni Che sono state fatte Tramite il nostro Linker e Ferrar Quindi anche lì Cifre Veramente visibili Dopodiché Dopodiché Ovviamente Arriva Per fortuna C'è C'è una quarta opzione Che è probabilmente Quella a cui state pensando tutti E intanto Anche Panfo Si è abbonato Antici abbonato Anticipatamente A livello 1 Per 3 mesi Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille Di cuore Grandissimo Panfo Davvero Adesso capirete bene Quello che intendo Appunto Quando parlavo di questa cosa Dei pagamenti Perché Perché ovviamente Adesso parliamo di Twitch Ecco Twitch È l'unica cosa Diciamo L'unico canale Da cui ci entra Qualche Qualche guadagno Qualche entrata In più Anche qui Voi direte Plinius Sono cifre enormi? No Non sono cifre enormi Ed è molto semplice Ragazzi Twitch Ha un grande vantaggio Qui intanto mette in pausa Altrimenti Oddio Si verifica un inception Di Plinius Ecco Piuttosto Vediamo la schermata Di video Ecco Qui vedete tutti i contenuti Che abbiamo portato E che portiamo Tuttora su Twitch Allora Dicevo Twitch ha un grande vantaggio A differenza Di AdSense Di Youtube Ed è che su Twitch Si può supportare Un canale Tramite Gli abbonamenti Le sub E voi lo sapete Perfettamente Perché quando vi abbonate Fate esattamente questo Vi subate Al nostro canale E in questo modo Ci date un piccolo aiuto Tramite Utilizzando Il Twitch Prime O Amazon Prime O anche proprio Donando un abbonamento Anche qui Dovete Quanto guadagniamo Da Twitch La domanda è Dato che sostanzialmente Twitch è Praticamente L'unica fonte Di entrate Stabili Che abbiamo Perché tutto il resto Come dette È un'elemosina Quindi considerando Le spese Di MMO.it Alla fine Praticamente Zero Le entrate Le guadagni Sono praticamente Zero Allora Quanto guadagniamo Da Twitch Beh su Twitch È molto facile Sapere quanto guadagniamo Anche qui Io adesso Non vi darò La cifra esatta Però ragazzi Basta fare 2 più 2 Basta sapere un minimo Di matematica Allora Considerate che su Twitch Ogni sub Porta circa Cioè Non è che porta Vale circa 2 euro Anche lì Diciamo Ogni sub Vale circa 2 euro Poi bisognerebbe Togliere un po' Di tasse Quindi in realtà Sarebbe più corretto Dire Che ogni sub Vale circa 1 euro E 50 E quindi È molto facile Sapere quanto guadagniamo Da Twitch Senza bisogno Che io ve lo dica Ragazzi Basta che fate Il calcolo Dei nostri abbonati E lo moltiplicate Per due O meglio Per uno e mezzo Ad essere più precisi Che dire ragazzi Il numero Delle nostre sub È pubblico Che sono I post umani Qui in basso E quindi Voi basta che prendete Il numero Dei veri Massivi Post umani Lo moltiplicate Per 1,5 E più o meno Sapete Quanto Guadagniamo Quante entrate Ci arrivano Grazie a Twitch Allora Esti Io Non lo so Nel senso Raga Non sapete Cioè Dovete solo fare Non te lo devo dire io Esti Ripeto Io non voglio dare cifre esatte Perché Però raga Raga Calcolate il numero Di nostri abbonati Per 1,5 Non per due Perché per due In realtà Per 1,5 O meglio Oppure se volete Se volete Moltiplicate I nostri abbonati Per due Però poi dovete Togliere Sì dovete togliere Le tasse Effettivamente Quindi sì Ecco Si è abbonato Anche Piadina Nucleare Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille Di cuore Quindi E intanto Ema668 È diventato massivo Grande Grande Fratello Vero massivo E ragazzi Senza bisogno Che io vi stia Dì il numero Esatto Anche perché Qualcuno dice Che davvero Twitch ha fatto Questa regola Per cui Chi Gli stream Leggo in chat Che Kronos Dice No ma questa regola Esiste davvero Gli stream Che danno I numeri esatti Vengono Vengono Bannati Cioè cos'è che ha detto Kronos Fatemi leggere Come Aveva scritto un messaggio Prima Ha detto Sì i partner Sì i partner Non possono comunicare I guadagni diretti Di Twitch Va contro Il loro contratto Bene E allora Io nel dubbio Non vi dico I guadagni esatti Però Ragazzi Basta Basta fare 2 più 2 E sapene Un minimo Di matematica E lo sapete Già Quanto facciamo Quindi Sì esatto Gibu Sono d'accordo Con Gibu Cioè raga Non c'è bisogno Di scrivere ogni cosa Avete una calcolatrice Non c'è bisogno Di scrivere ogni cosa Ecco Che è anche abbastanza Comunque Direi che È abbastanza Evidente E questo lo dico Per rispondere A chi davvero È convinto Che grazie a MMO.it Noi facciamo 2000 euro al mese 1500 euro al mese Io Ask Zocravus Tutti i ricchi E vabbè Evidentemente Diciamo che Alcune persone Credono che Il mondo Sia Così Sia un po' Una favoletta Più Più bella Di quanto Non è È vero Esti stasera Ho detto Parliamo di soldi E però Tanto direi che Ci siete già arrivati Ecco Poi Si può Poi Raga Nel senso È inutile stare qui A dire Ma sono 138 139 O 138,5 Cioè Non facciamo Gli autistici 5 ore in più 5 ore in meno Non cambia niente In ogni caso Il punto è evidente Il punto è Al momento MMO.it Non è un lavoro Non si può Purtroppo Non possiamo definirlo Un lavoro a tutti gli effetti Perché un lavoro a tutti gli effetti È una cosa che ti fa portare il pane a casa C'è una cosa per cui tu Sopravvivi Si spera anche più che sopravvive È un lavoro vero e proprio È una cosa che ti permette di pagare l'affitto Ti permette di pagare le bollette Ti permette di pagare cibo, acqua e tutto il resto E al momento Purtroppo Noi non siamo in quella situazione Anche se Ovviamente Sarebbe bello Un giorno Poter dire Che ci siamo arrivati In un'ottica futura Comunque Bella desdemone Buon Buon proseguimento Buona notte Ci sentiamo Grazie mille Allora Esti Non facciamo polemica Dai Un euro in più Un euro in meno Non è quello il punto Il punto è che al momento Non è Insomma Non è un lavoro Vero e proprio Ed è per questo Che è così importante Il vostro supporto Allora Voi dovete perdonarmi Se io a volte Faccio come dire La pausa pubblicità Cioè se io a volte Chiedo ragazzi Ricordatevi di iscrivervi al canale Di rinnovare gli abbonamenti Ecco Perché lo dico Lo dico perché Di fatto è l'unico modo In cui È l'unico modo Che ci permette Di ricevere Delle entrate Che siano un minimo fisse In questo modo Voi potete supportarci E sostenerci Io questo lo dico Anche perché a volte Effettivamente ho ricevuto Dei commenti Di gente che dice Eh ma Plinus Basta dire di abbonarsi Basta dire di iscriversi Eh no Basta niente Nel senso Perdonatemi Però Di tanto in tanto Nei salotti O negli streaming È anche giusto Ricordarlo Perché Altrimenti Chiudiamo Baracca e Burattini E Ciao Comunque Sasuke Questa live No Questa live Non è per i decelebiati Questa live La faccio per la nostra community Per il nostro pubblico Per una questione Di onestà E trasparenza Eh Poi andiamo avanti Allora Eh Anche qui Diciamo che c'è molto A dire Eh Come dicevo prima Ovviamente La speranza E l'obiettivo È quello Di riuscire Un giorno Ad arrivarci A fare in modo Che MMO.it Possa guadagnare E in quest'ottica La nostra intenzione È quella Di guardare Alle opportunità Future Qui ovviamente La questione è Quali Quali sono I modi Le modalità Possibili Con cui Potremmo Potremmo riuscire A guadagnare A portare Delle entrate A MMO.it Ah Ci sono alcuni Che ci hanno consigliato Di aprire una pagina Patreon Ed è una cosa Cosa a cui noi abbiamo anche pensato Però La verità È che essendo la nostra community Molto inicchia Probabilmente Non Anche lì Le cifre Le entrate Che riceveremmo Sarebbero molto piccole A mio parere Diciamo La vera opportunità Cioè L'obiettivo A lungo termine Deve essere Quello Di crescere Su Twitch Continuare A crescere Per ottenere La partnership L'obiettivo Ovviamente È quello Di diventare Twitch partner Il che vuol dire Avere la spunta blu E vuol dire A quel punto Che effettivamente C'è C'è un terreno Fertile Per avviare Un percorso Di crescita Anche Su Twitch Che permetta Comunque Di guadagnare L'OnlyFans Va bene L'OnlyFans È sempre divertente Però Adesso Scherzi a parte Allora Noi parliamo già Di altri giochi Che non siano Solo MMO GB Però Voglio anche rispondere A Sasuke Siccome chiedeva Questa live Alla fine A che pro Guarda Sasuke Ti rispondo Questa live Ha Uno scopo Se vogliamo Anche un po' crudele E lo scopo È dire Che Purtroppo Se MMO.it Continua Così Le entrate Sono molto piccole E diciamo Io adesso Non voglio dire Ah MMO.it Chiuderà No perché Poi non è bello Minacciare il pubblico Se non vi abbonate Chiuderemo No non è quello Ovviamente Il discorso Non è quello Però è evidente Che Una cosa Cioè un conto E che Aspetta un attimo Devo un attimo Fare Fare ordine Perché Diciamo stasera Quello che dico È molto importante Quindi Allora La verità È che Cambia parecchio Se una cosa La fai Per passione Mentre Nel frattempo Devi anche Lavorare Cioè quindi Tu nella vita Devi trovare Un lavoro Che ti faccia guadagnare E poi In quel poco Tempo libero Che ti è rimasto Scrivi Streammi Comunque Porti contenuti Su MMO.it Un altro conto Invece È se Quello È ciò Che ti fa vivere Cioè un conto Cioè quello Che io voglio dire È che Un conto È se Noi Guadagniamo Tramite MMO.it E MMO.it Ci fa vivere E allora Questo vuol dire Che noi possiamo Dedicare MMO.it Tutto il tempo Cioè tutto il nostro Tempo Lavorativo Invece Nel momento in cui Noi non guadagniamo Tramite MMO.it E ovviamente Non si può pretendere Che noi Dedichiamo tutto il nostro Tempo Al progetto E quindi Vuol dire Che noi dobbiamo Dobbiamo avere Un lavoro Per conto nostro E poi Quel poco tempo Libero Che ci è rimasto Ad esempio La sera Possiamo portare Contenuti Ad esempio Streammare E però Capite che Sono due cose Molto diverse E cambia fascia orale Su Twitch Capisco Esti Se hai Se hai dei consigli Sono tutto orecchi Però Noi Noi abbiamo Sempre Fatti La maggior parte Dei Guardate Cioè i numeri Più grandi Noi li abbiamo Sempre fatti La sera Più che il pomeriggio Comunque Sasuke Non sono d'accordo Onestà e trasparenza Di cosa Voi portate un contenuto Gli altri liberamente Possono scegliere Di supportarvi o meno Che poi ci guadagni Mille o diecimila Non sono affari loro Io contribuisco Con quello che voglio Poi che voi diventiate ricchi O meno Saranno affari vostri E beh Sasuke Però Allora Tu ovviamente Puoi Puoi fare quello che vuoi Io non ho mai detto Che siete costretti A supportare il canale Però Parliamoci chiaro Un conto E se Io faccio Se io e Askezo E Kravuz Facciamo questo di lavoro Allora vuol dire Che noi tutti i giorni Possiamo pubblicare Articoli Possiamo pubblicare Contenuti Possiamo fare streaming Un altro conto Invece Se noi Da mmo.it Guadagniamo Tote euro Qualcosina Al mese E allora A quel punto Raga Noi Dobbiamo trovarci un lavoro Altrimenti Finiamo in mezzo alla strada Quindi vuol dire Che io devo Trovarmi un lavoro Che ne so Un lavoro Da otto ore al giorno Ad esempio E poi Quando Quando ho finito Quel lavoro La sera Quel poco tempo Che mi è rimasto libero Faccio streaming E porto contenuti Però capite Che non è la stessa cosa Questo è un dato di fatto Ragazzi Poi possiamo stare qui A raccontarci Le favolette Quanto volete Ad esempio È già il caso Di Anche di Askezor Askezor Ha già un lavoro Ha già un lavoro E poi La sera Diciamo Quel poco tempo libero Che ha Lo dedica Ad esempio A fare i salotti A fare le lezioni Di Askezor Che per carità Sono bellissimi contenuti Però Più di così Non può fare Perché lui Già lavora Tutto il giorno Ma nel frattempo Abbiamo un nuovo abbonato Zargon Grandissimo Vero massivo Postumano Grazie mille Di cuore Cop Se MMO Punto it Al momento è solo una spesa Ci sta a chiedere supporto Ma allora Io non sono qui per l'emosinare Cioè Attenzione ragazzi Io non sto facendo questa live Di Dovete abbonarvi Se no Chiudiamo tutto E vaffancino No non è quello il punto Semplicemente Eh beh Cioè Io credo che sia giusto Parlare con la nostra community E con il nostro pubblico Di quelle che sono anche le nostre entrate Di quello che possiamo fare Di quello che non possiamo fare Ecco Io vedo che la tarda mattinata Nel primo pomeriggio C'è un terreno piuttosto fertile Soprattutto verso il target di età teenagers Ok Yes Interessante Questo Ma infatti ragazzi Abbiamo già un piano Abbiamo già un piano Per cui nelle prossime settimane Abbiamo dei ragazzi Che inizieranno a collaborare con noi Come streamer E Apriremo la fascia pomeridiana Apriremo la fascia pomeridiana Soprattutto legata ad alcuni contenuti Ad alcuni format Che poi possono piacere o non piacere Però Noi dobbiamo Diciamo Stiamo facendo i tentativi Per capire se c'è modo di Di far crescere il progetto Beh ma un po' tutti quelli che scrivono Questi video giochi Tendenzialmente hanno un altro Lavoro Non tutti Zero Non tutti Cioè Allora Molti sì In Italia sono In Italia effettivamente sono pochi Questo è vero Sono pochi quelli che Vivono e guadagnano solo parlando di videogiochi Però Ce ne sono Ce ne sono A me Che stasera Che stasera Possono danno una mano Incasinata Tra famiglia Mettersi Sono anche Cosina Però parliamoci che Dopo una giornata Stressante di lavoro Io sinceramente non mi metterei a fare un secondo lavoro Se non ne vale la pena Esatto Gibbo Infatti è un po' questa la domanda L'incognita Dobbiamo capire se MMO.it Può diventare un vero lavoro Perché altrimenti È evidente che Purtroppo Ragazzi E io ripeto Purtroppo È evidente che i contenuti Pian piano Andranno diminuendo Perché Se MMO.it Resta Soltanto Una passione Allora Noi dovremo approcciarla Come una passione Bellissima Per carità È un bellissimo progetto Io È un progetto A cui sto lavorando Da sei anni Sei anni della mia vita Ho dedicato A MMO.it E continuerò a farlo Però Se è una passione Non si può pretendere Che occupi tutto il tempo Perché Purtroppo Il lavoro Ha la precedenza Quindi Allora Mi sembra di poter dire Che il taglio di MMO.it Non sono i teenager Se fosse così Il grosso di questa community Lascirebbe il posto ai teenagers Verissimo Ogni volta che scrivo qualcosa Mi ringrazia sempre Ogni giorno Considerate le mie precedenti esperienze Fa quasi strano Ma fa piacere Grande Zero No Fa piacere davvero a me Che ci dai una mano Che collabori con noi Grazie mille Allora Cronos Scusa Lo spettatore random Non noi magari che vi conosciamo Non è dato sapere Se voi fate altri lavori Oltre allo streaming Credo che chiunque si butti Su questa o altre piattaforme Abbia due obiettivi Uno for fun Sperando che magari un giorno Possa portare i soldi No No scusa Ho detto male Allora Li leggo Credo che chiunque Si butti su questa o altre piattaforme Abbia due obiettivi For fun Sperando che magari un giorno Possa portare i soldi Per puntare direttamente i guadagni In ogni caso Per ottenere Bisogna ovviamente investire In questo caso Oltre ai soldi Per attrezzatura Molto tempo Ma questo vale per tutti i settori Certo Cronos Noi già abbiamo investito Sulle attrezzature Nel senso che comunque Sia io che Askez Vedete Utilizziamo dei microfoni Professionali Abbiamo anche delle webcam Professionali Che permettono di streamare 1080p 60fps E poi Quel poco che guadagniamo Cerchiamo sempre di reinvestirlo E lo reinvestiamo anche Nella nostra redazione Come dicevo prima Lato che abbiamo dei ragazzi Che collaborano con noi Però anche lì Le cifre sono piccole Per cui Non è che si può pretendere Che ogni mese Reinvestiamo Migliaia e migliaia di euro Ecco E il nostro è un progetto indipendente E Al momento è un progetto di nicchia Questo va sempre ricordato Da come vedo Per guadagnare da Twitch Bisogna starci almeno 6 ore al giorno Tutti i giorni Creando così una community Da domani Inizia a stare 6 ore al giorno su Twitch Tu Non un collaboratore Come hai detto 10 minuti fa Miei pareri Ma allora Assolutamente condivisibile Miki Io ovviamente Ho tutto l'interesse Ad aumentare il mio impegno Nei confronti di Twitch Cioè Non prendetemi per un Per un cazzaro Io Ragazzi Io se non Se non Se non Dedico A MMO.it Tutto il mio tempo Vi assicuro Che non è Così Un vizio Perché Ah non mi va di faticare E che io Ho dei parenti malati E li devo accudire E qui Io non Io non l'ho mai detto Perché poi non mi piace Sembra che me la voglio tirare Però Ragazzi Vogliamo dirla tutta Dato che Eh dato che siamo Nella live In cui ho detto Vi dico tutto Eh ragazzi Io Io ho un Un genitore malato Nel senso che Mia Mia mamma Ha l'alzheimer Purtroppo Mia mamma ha l'alzheimer E quindi io comunque Devo stare dietro E devo dare una mano Ad accudirla Poi per fortuna Non ci sono solo io Perché C'è anche mio padre Però Indubbiamente È un bel problema Io Io non so se a voi È mai capitata Una cosa del genere Vi auguro con tutto il cuore Che non vi capiti mai Però Vi assicuro Che è un bel problema Avere una Vedere Vedere tua mamma Malata di alzheimer Ecco Vabbè Oltre ad essere pesante Proprio psicologicamente C'è una cosa Che manderebbe In depressione Chiunque Vedere Vedere La propria mamma Malata di alzheimer Però Oltre alla questione Psicologica È proprio Una questione Di tempo Cioè che Io comunque Devo dare una mano Ad accudirla Quindi Quindi io Non ho tutto Non ho tutto il giorno Purtroppo Ah eh Capisco Capisco Gamesquit Eh sì Purtroppo Vi dico Io da questo punto Di vista La mia famiglia È maledetta Sembra Avete presente Come quando Ci sono Ci sono quelle famiglie Con le maledizioni Che gravano Ecco è così La mia famiglia È esattamente così Nel senso che L'alzheimer Ha sempre Ha sempre colpito La mia famiglia Perché purtroppo Come forse sapete L'alzheimer Ha Ha una parte Genetica Ereditaria Quindi si trasmette Di persona In persona E perché Dico questo Perché Prima di mia mamma Ce l'ha avuto mia nonna Mia nonna Dieci anni fa Vent'anni fa Ha avuto l'alzheimer E poi Dopo mia nonna È arrivata mia mamma Ed è andato Proprio Dritto per dritto Cioè proprio È tra l'altro molto giovane Nel senso che mia mamma Ha già 60 anni Alzheimer E tra l'altro Alzheimer in uno stato avanzato Non parliamo di L'alzheimer Che magari Non ti ricordi bene Cosa hai fatto Quel giorno Di un mese fa No no Alzheimer in stato avanzato Purtroppo Quindi purtroppo Io questo lo dico Anche per rispondere A chi mi chiede Ma tu da domani Plinius Ti dai da fare Vuoi streamare tutto il giorno Io ragazzi Io faccio tutto il possibile Sicuramente aumenterò Il mio impegno Perché io intendo Impegnarmi sempre di più Dato che MMO.it È una cosa che mi piace È una cosa che mi dà soddisfazione E io spero Di riuscire a renderla Un lavoro Quindi ho tutto l'interesse Del mondo Ad aumentare il mio impegno Però purtroppo Se non riesco A farlo Per tutto il giorno 8 ore al giorno È perché Io Insomma Devo dare una mano Con mia mamma Purtroppo Insomma La malattia Ragazzi Quando capita La speranza È che La speranza È che la medicina Prima o poi Trovi una La scienza Prima o poi Trovi una cura Per l'Alzheimer Perché vi assicuro Che è una malattia Terribile Cioè Preferirei piuttosto Avere qualcosa di fisico Nel corpo Però Quando Quando Perdi la testa Quando non hai più I tuoi ricordi Non sei più tu Quindi Alzheimer Vi assicuro Che è una cosa Spaventosa Detto questo È abbastanza genetico Mia nonna Mia mamma Mia zia Eh ti capisco Roberto Massima solidarietà Io Non ho Zie Però È passata Da mia nonna A mia mamma Io spero Che non passi Anche a me Però il rischio C'è Ecco In un futuro Il rischio C'è Tieni due Plinus Mi dispiace molto Ti ringrazio Debbis Vi ringrazio molto Ragazzi Per l'avvicinanza Tra l'altro vi dico Io questa è una cosa Che non avevo messo In programma Di dire Cioè io stasera Mi avevo fatto Un Mi avevo fatto Una lista Non una lista Come si dice Mi ero fatto Mi ero preso Degli appunti Di cose che volevo dire E questa cosa Non la volevo dire Cioè Mi è venuta in mente Adesso Siccome Siccome in chat Mi avete chiesto Ma perché Plinus Tu non fai Non stimmi Tutto il giorno È perché Purtroppo Devo Devo dare una mano Comunque Sti cazzi Di MMOI Onestamente Ci sono cose Molto più importanti Forse coraggio Plini Grazie Grazie mille Rios Grazie mille A tutti Guarda Esti Sì ci sono cose Più importanti Però Io Ho 30 anni E a 30 anni Devo anche capire Qual è il mio futuro Come posso guadagnare Come Cioè Se Non solo Io Cioè Se noi Di MMO Possiamo guadagnare Quindi Comunque Io voglio portare avanti Questo discorso Capisco il problema familiare Io sono vicino Ma se adesso Per voi Fare una live È pesante Significa che Sarà dura Andare avanti Ma non è che sia pesante Perché c'è stress No no Ma Sasuke Sei fuori strada Cioè Il problema Non è che è pesante Perché è uno stress Il problema È che semplicemente Non posso Dedicare Tutto il tempo A quello Purtroppo E cosa faccio Abbandono mia mamma Con l'alzheimer Ragazzi Cioè Ci sono delle cose Nella vita Che Non è facile Ecco Io Cioè Non è una cosa Vi assicuro Che non è una cosa Che ho scelto Anzi Io ogni giorno Maledico Maledico Ogni giorno Quando mi sveglio Maledico Il fatto Che purtroppo La mia famiglia Si è stata colpita Da questo morbo Prima mia nonna E poi mia Mia mamma Ha colpito Comunque la cosa Veramente tragica È che ha colpito Tutte le donne Della mia famiglia Cioè Mia nonna Mia mamma Erano le donne Che Che io ho avuto Che io ho amato E purtroppo L'Alzheimer La malattia Le ha colpite tutte Quindi Questo è molto tragico Vi ringrazio per la vicinanza Grazie per la solidarietà Ragazzi Comunque Adesso non volevo farvi Non volevo farvi deprimere Parlando Di malattia Eccetera Semplicemente Dicevo Cerchiamo di capire Cosa Se Se C'è terreno di crescita Per mmo.it Se noi possiamo crescere E vi dico Già Soltanto Diventare Riuscire a diventare Twitch Partner Sarebbe un passo avanti Enorme Vorrebbe dire Che noi qua Otteniamo la spunta E a quel punto Ci sono molti vantaggi Nell'essere Twitch Partner Buonasera Fate TTV Benvenuto E tra l'altro Ray Ray 011 Ray è diventato massivo Grande fratello Vero massivo Se Live di mmo.it Especialmente Quelli di plini Sono super relax Grazie Riosh A parte Tutti i contenuti Che portate Non si sposano A 6 ore Di streaming Al giorno Almeno così Pare a me Magari Sbaglio Allora Per ottenere La partnership GB Bisogna Dobbiamo Semplicemente Avere più Dobbiamo avere Più utenti Più spettatori In contemporanea Nel senso Che ci sono Tre Ci sono tre requisiti Per ottenere La partnership Su Twitch E adesso Ve li Adesso ve li dico Ve li dico Proprio Allora Per ottenere La partnership Su Twitch Bisogna Un attimo Guardo la scheda Allora Bisogna Trasmettere Per almeno 25 ore Ogni settimana E noi questo Lo facciamo No Forse ogni mese Scusate Che qui Non è chiaro 25 E beh Ogni settimana Sarebbe 25 ore A settimana Sarebbe tantissimo No Fatemi controllare No Ogni mese Scusate Scusate Dicevo Tre requisiti Trasmettere Per almeno 25 ore Trasmettere Per almeno 12 giorni Differenti E avere Una media Di 75 Spettatori Noi Le prime Due cose Già Le facciamo Cioè Ogni mese Trasmettiamo Per almeno 25 ore E ogni mese Trasmettiamo Per almeno 12 giorni Diversi L'unica cosa Che ci manca Scusate Non volevo Non volevo L'unico requisito Che ci manca È il terzo Cioè Avere Una media Stabile Di 75 Spettatori Connesse E lì Stiamo crescendo Ovviamente L'obiettivo È quello Di arrivarci Ci arriveremo Non ci arriveremo Speriamo Di sì Ovviamente Al momento Quello è L'unico requisito Che ci manca Ecco Ma no ragazzi 6 ore al giorno Gli streaming Non c'entra Per crescere Secondo me Semplicemente Continuando Per passione Facendo Le live Fidelizzando Gli iscritti È un'ottima strada Ti ringrazio Panford Esatto Fate Sì 75 spettatori Contemporaneamente Ogni mese Trovo Abbastanza strano Facciate abbastanza Spettatori Visto Soprattutto La merda Che va di voga Su Twitch E guarda Il nostro È un canale È un canale Di nicchia Roberto Il trash Purtroppo Purtroppo Per fortuna Secondo i punti di vista Comunque Il trash Tira Questo Non c'è dubbio Noi Noi portiamo Contenuti Di solito Di approfondimento Contenuti Di informazione In particolare Beh ci sono Delle live Che hanno Un grande successo Lo sapete Il format Il format Con cui Abbiamo più successo È sicuramente Il salotto E gli MMO Nel senso Che noi Quando facciamo Il salotto Spesso Aggiungiamo E superiamo Anche i 100 Spettatori Contemporanei Allora Se tutte le live Avessero Il successo Che ha Il salotto Noi Probabilmente A quest'ora Saremmo già Twitch partner Anzi Non probabilmente Sicura A quest'ora Saremmo già Partner A quel punto Il discorso Il discorso è O facciamo Solo Live Salotto Cioè Facciamo Solo Streaming Salotto E gli MMO Così Prima o Così Prima o Poi La La partnership Dovremmo Ottenerla Però Non dimenticate Che ci sono Anche gli altri Requisiti Che vi ho letto Cioè Non basta Fare uno streaming Alla settimana Perché In un mese Bisogna Streamare Per almeno 12 giorni Diversi E per almeno 25 ore Quindi Non basta Fare uno streaming Alla settimana Ecco Allora La media più alta La potete fare Solo streammando Di più in orari Diversi Sicuramente Sa che si possono Diversificare Gli orari Questa è una possibilità E pensate che Gischianto Adessa 900 viewers Ma io Non ce l'ho Con Gischianto Ognuno guarda Quello che vuole Sicuramente Lui è riuscito A trovare un pubblico Di ragazzini E bambini Che Che si divertono Guardare i suoi contenuti Ma È giusto così Certo Gischianto Non fa informazione Non fa giornalismo Sui videogiochi Fa intrattenimento E se Se diverte Vuol dire che Vuol dire che Esce nel suo obiettivo Ecco Chi sono io Per criticare Comunque Allora Forse è uscita male Intendevo strano La gente guardi La La media Invece Certo Certo È chiaro Ragazzi Allora Allora Intanto Leggo anche Altre cose Linio Ah da parte di Ray Un abbraccio Per la tua situazione Personale Sono cose dedicate Su MMO It My Two cents Viste considerato tutto Doveste fare un attimo Il punto Sugli obiettivi del progetto Non cosa vorreste fare Ma cosa potete Realisticamente fare Che probabilmente Non è più allineato Cosa volete E cosa potete Certo Ti ringrazio Ti ringrazio Ti ringrazio Anche Ray Ovviamente Grazie per il messaggio Ma ripeto ragazzi Lasciate perdere Gischianto Gischianto fa Contenuti Di intrattenimento E vabbè Faccia i suoi contenuti Di intrattenimento Cioè Noi non siamo In concorrenza Con Gischianto Perché Noi facciamo Noi portiamo Un contenuto Completamente diverso Noi facciamo Informazione E critica Sui videogiochi Online E E inutile Fare paragoni Eh ma gli italiani Guardano Gischianto Ma gli italiani Guardano quello che vogliono Lui È un target Completamente Completamente Diverso Buonasera Galatimus Sì Ognuno fa Intrattenimento Come vuole Sasuke Poi può piacere O non piacere Eh però raga Il trash esiste da Non è che esiste da oggi Comunque Sono d'accordo con Plini Questo canale è molto inicchia Lo dico per fortuna Perché si parla A livello contenutistico Di cose che nessun altro fa E soprattutto In una maniera davvero professionale Esatto Dovete considerare anche un'altra cosa Sono d'accordo con Fate Che Io ho letto molti in chat Dire Anche giustamente Ho letto molti commenti Dire Eh ma Non dovreste parlare solo Di MMO Di videogiochi online Dovreste diventare più generici Parlare solo di videogiochi Eh però A quel punto Vuol dire che Perdiamo totalmente La nostra unicità Nel senso che ci sono Migliaia Di Di canali Su Twitch Che parlano di videogiochi Solo in Italia Ce ne sono migliaia Più grandi Più piccoli Però sono letteralmente Tantissimi Allora nel momento in cui Noi diciamo Basta Non parliamo più di MMO Ma parliamo solo di videogiochi Come qualsiasi altro portale Non abbiamo più Un focus Un'identità editoriale Quindi secondo me È giusto Che noi Parliamo Principalmente Di MMO E videogiochi online Però poi Ovviamente Parliamo anche di videogiochi Banalmente L'altra sera Abbiamo fatto il salotto E gli MMO Con Askerz E abbiamo parlato anche di Starfield No Che non è un MMO Quindi sul fatto di mantenere Un'identità editoriale Io credo che sia giusto Credo che Sia una cosa Anche perché poi Il salotto degli MMO Perché è così visto? Perché appunto Parliamo di MMO E di mondi virtuali I salotti sono ottimi Io ad esempio Mi collego e vi ascolto Mentre chiacchierate O parlate di news E videogiochi recenti E non Sono dei podcast C'è il topanfo Infatti Infatti abbiamo anche Il podcast Non so se lo sapete Che MMO.it È presente anche su Spotify Se non lo sapete Ve lo faccio vedere Vedete questa iconcina Qui sul sito Ecco C'è il podcast Del salotto degli MMO Su Spotify Se non lo sapete Correte a Correte a seguirci ragazzi Vi metto Vi metto il link Buonasera Daniel Logan Benvenuto Già lo fate Fate molte digressioni Su altri generi Infatti Infatti è così Assolutamente Anche perché ragazzi Vogliamo parlare di quella Che è la situazione degli MMO Negli ultimi mesi E se noi parlassimo Solo di MMO Dopo lo Stark Non è più uscito nulla E quindi Quindi è evidente Che noi Sì certo Ci concentriamo Anzitutto Sugli MMO Però poi Parliamo anche Di videogiochi Di mondi virtuali Per forza Perché Con la situazione Gli MMO Stanno vivendo Un momento Di calma Un momento Di calma piatta In attesa Che escano i nuovi E quindi per forza Portiamo anche altro Facciamo streaming Disagio Facciamo streaming Nostalgia Facciamo le elezioni Di AskZor Banalmente Se ci pensate Le elezioni di AskZor Non sono tutte sugli MMO Giusto l'altra settimana Ne ha fatta una Che non era sugli MMO Era sugli Action RPG Tipo Diablo Io lo seguo già Grande fate Ah Panfo Non lo sapevo Beh Allora adesso L'avete scoperto ragazzi Il salotto funziona Perché anche Intrattenimento Assolutamente Esti Noi facciamo Informazione E intrattenimento Infotainment Come si suol dire Però indubbiamente La parte di critica E informazione È molto importante Quindi tirando un po' Le somme Qual è il punto Ma il punto È che noi dobbiamo Anche capire Su cosa puntare Nei prossimi mesi E anche lì Noi il sito Abbiamo il sito MMO.it Ogni giorno lo aggiorniamo Pubblichiamo news Articoli Contenuti Soprattutto grazie Ai nostri redattori E collaboratori Che ringrazierò sempre Però come vi ho spiegato Prima Al momento Il sito A noi Non ci fa guadagnare Quello che guadagnavo Dal sito È praticamente Una lemosina Quindi arriverà Un momento In cui noi Dovremmo anche Chiederci Se davvero Va la pena Tenere il sito Per me Cioè io vorrei Tenerlo E se chiedete a me Cosa ne penso E ovviamente Io vorrei Tenerlo Perché Cazzo MMO.it 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 Cioè comunque Una realtà Importante Però se noi dobbiamo Se noi dobbiamo Ottimizzare i nostri sforzi E puntare Solo Su ciò Che ci porta Più entrate Stabili E beh Noi dovremmo dire Chiudiamo il sito E concentriamoci Concentriamo tutto Su Twitch e YouTube Questo purtroppo È il ragionamento Che dovremmo fare Se volessimo seguire Solo i soldi Obiettivamente I siti vanno a morire E non tutti Perché Alcuni sono molto seguiti Però indubbiamente Oggi c'è sempre Meno voglia Anche meno tempo Da parte delle persone Di fermarsi A leggere Dei contenuti scritti Ecco E però vedi Criville dice Il sito ci vuole Perché ci sono notizie Che da altre parti Non si trovano E lo so ragazzi Infatti anch'io Lo voglio tenere Però vi dico Dal sito Noi Praticamente Non guadagniamo Cioè ripeto Guadagniamo cifre Talmente basse Che è un'elemosina Non è un lavoro Io ammetto Che consulto poco Il sito Ma è utile Tenerlo Altro che Dieci siti Di videogiochi In Italia Andrea Mantuano Forse solo Se consideri Quelli enormi Tipo Multiplayer EveryEye Spazio Games Ma Se li consideri Tutti In Italia Ci saranno Mille siti Di videogiochi Voi non avete idea Di quanti siti Di videogiochi Ci sono in Italia Ragazzi Io li conosco Perché insomma Il mio lavoro Ci sono letteralmente Centinaia e centinaia Di siti E di portali In Italia Che parlano di videogiochi Certo Poi quelli davvero grossi Sono pochi Però Ah ok Per dire Certo Daniel Logan Abbiamo già parlato Com'è la pubblicità La pubblicità c'è La pubblicità c'è E AdSense Ma AdSense Sarebbe in pratica Il nome Quando io parlo di AdSense Parlo di Google Questa è la pubblicità di Google Il problema è che La pubblicità di Google Sono letteralmente Pochi euro Cioè Sono pochi spicci E tra l'altro Molti utenti Ricordiamo che Oggigiorno Molti utenti Girano Sul web Con Adblock Questa è la verità Quindi molti Neanche li vedono Queste Queste poche pubblicità Che tra l'altro Sono poche Perché noi abbiamo mai voluto Riempire il sito di pubblicità Perché è molto brutto A mio parere Quindi Ce n'è una qui Sulla destra Ecco E basta Praticamente Ci sono ancora meno Di quanti pensasse Infatti poi magari Una pubblicità La aggiungiamo Magari Magari qui Verso il fondo Comunque Sono cifre piccole Ragazzi Bisogna Bisogna fare milioni Cioè Dovete cercare Di non usare Google Sì Diciamo Dovremmo cercare Di stringere Contratti personalizzati Il che però Non è facile La verità Ragazzi È che Se oggi Oggigiorno Si vuole guadagnare Da un sito Dalle pubblicità Dai banner Di un sito Bisogna fare Tantissime visite Cioè Parliamo di numeri Importanti Non Mille Duemila Duemila Visite al giorno Ma tipo Centomila Come fanno i grandi portali Allora lì sì Che qualcosa guadagni Però con le cifre Che facciamo noi Guadagniamo poco o nulla Ecco Poi Io Questo Voglio farvi leggere Il commento Siccome prima Mi chiedevate Ma Plinius Ma come mai Chi è che ha detto Ecco Noi abbiamo avuto Un salotto Ecco vi faccio vedere Noi abbiamo avuto Questo salotto Degli MMO Parliamoci Se non ci foste voi Non avremmo news italiane Di tutti gli MMO Trovo sbagliato Paragonarlo A tutti gli altri siti Di news Di game E lo so Gibu Ma infatti È giusto Io vi ringrazio Assolutamente Per questi Io vi ringrazio Per Vi ringrazio ragazzi Per essere presenti Stasera Per tutti i consigli Che mi date Però appunto Parlando in termini monetari Io semplicemente Vi dico Vi spiego Qual è la situazione A livello monetario E poi Ognuno tra le sue Conclusioni Ognuno Ha le sue opinioni Ovviamente Esatto Andrea E considera Che quei siti Che tu hai elencato Quei siti Che tu hai citato Fanno milioni Di utenti Unici Ogni mese Allora Ragazzi Capite la differenza Ripeto Noi di MMO.it Facciamo circa 2000 visite al giorno A volte un po' di più A volte un po' di meno Quei siti Che hai citato Fanno milioni Di utenti Sì milioni di utenti Al mese Ok Non al giorno Però E come diceva Differenza Tipo di 1 a 100 Allora se persino Quei siti Hanno problemi Non c'è bisogno Che dica altro Ecco Comunque Buonasera Ema 668 Benvenuto Niente Ci rinuncio Spammare il messaggio Ma in realtà Questo te l'ho letto Questo messaggio L'ho letto Ema Quindi Quindi se vuoi scrivere Forse gli altri messaggi Non sono arrivati Perché ho messo Ho messo questa live Solo per iscritti e follower Quindi forse è per quello Che non è arrivato il messaggio Comunque se vuoi scrivere Scrivi pure Ecco Senza Senza problemi Ah e tra l'altro Sapete che vi dico Lo rimetto Followers 30 m Ah darmi un attimo Madonna questi ok Non vedo Scusate Ok Perfetto Dicevamo Dicevamo Esatto Infatti Infatti è inutile Paragonarci a siti Tipo Evere Multiplayer Ragazzi Quei siti fanno Milioni di utenti Unici ogni mese E noi siamo Un portale Piccolo Un portale di nicchie Indipendente Va bene Allora dicevo No a me in realtà L'idea di questo L'idea di questa live Plinius ex macchina Mi è venuta Leggendo questo Questo salotto Vedete noi Come al solito Annunciamo Io annuncio sempre Quando facciamo i salotti E quindi Questo è il salotto Del 30 maggio In cui ho chiesto Quali sono i videogiochi Più sopravvalutati E hanno iniziato a commentare Insomma ci sta Dei commenti Legittimi Dei commenti Legittimi Con youtube va meglio No ne ho parlato prima Daniel Logan No non va meglio L'unica Allora ragazzi Breve sintesi Per chi non c'era prima L'unica cosa Che ci porta Diciamo delle entrate Non dico grosse Però almeno costanti E twitch L'unica E su twitch Se volete sapere Quanto guadagniamo È molto facile Volete sapere Quanto guadagniamo Su twitch Ragazzi Il numero dei nostri Abbonati è pubblico I post umani Li vedete in basso a destra E basta moltiplicare Il numero dei post umani Per 1,5 E più o meno Euro più Euro meno Saprete Quanto guadagniamo Da twitch Tutto qui Non ci sono altri Non ci sono altri Fonti di guadagno Allora Dicevo Questo Vi leggo questo commento Perché voglio farvi capire Diciamo Da cosa mi è scatuita Questa discussione Ecco Eh lo so Lo so Andrea Ma tu però Citi Fossetti E Fossetti Il giorno che ha aperto Capisci che Fossetti È già un influencer È già famoso Per chi segue i videogiochi Andrea Allora è facile dire Eh ma Fossetti Ce l'ha fatta Eh ho capito Però Capite che Fossetti E Mottura Il giorno 1 Il primo giorno Che hanno annunciato Di aver aperto Il canale Avevano già Tipo 5000 follower E hanno ottenuto La partnership In Tre giorni Penso Tre giorni Raga Eh noi Purtroppo Non abbiamo I numeri Di Multiplay O Every Eye Siamo Siamo cresciuti Noi siamo Siamo venuti Dal basso E non lo dico Per retorica Noi davvero Noi Siamo nati Dal nulla MMO.it È venuto su Dal nulla Ci stiamo Costruendo Faticosamente Una reputazione Nel corso Egli anni Eh però Eh lo so Andrea Però ti ripeto Lo so Lo so bene La situazione Tra l'altro lo conosco Personalmente Fossetti Andrea Quindi so benissimo Di cosa sto parlando Però È facile dire Eh ma guarda Fossetti Lui ce l'ha fatta Sì Lui Il primo giorno Che ha annunciato Questo nuovo canale Con Mottura Avevano 5000 follower E hanno ottenuto La spunta blu In credo 3-4 giorni Noi è da anni Che portiamo contenuti Raga Noi è da anni Che stremmiamo E vi assicuro Che è una cosa Impegnativa E faticosa Con questo Questo non lo dico Per Come una scusa Eh Però per dire Che noi non abbiamo Purtroppo Noi di MMO.it Purtroppo Per fortuna Eh Siamo sempre stati Onestissimi E avendo sempre puntato Così tanto Sull'onestà Non abbiamo mai avuto Delle scorciatoie Cioè non abbiamo mai Comprato follower Non abbiamo mai Comprato Spettatori Non abbiamo mai Comprato bot E Anche Diciamo che È molto difficile Crescere su Twitch In modo organico Portando contenuti Sui videogiochi Non è facile Ecco Grande Andrea Sì sì ma lo so Che tu supporti MMO Ci mancherebbe Lo so Lo so Allora Eccolo Ema Finalmente sono riuscito A partecipare A una vostra live Sono Emanuele di YouTube Grande Stavo seguendo Il tuo discorso Avete mai provato A chiedere una collaborazione Con altri streamer So che il numero Curulili è abbastanza grosso Ma secondo me Amante anche lei Di MMO Potrebbe partecipare Volentieri ad un vostro salotto Secondo me Doveste prendere in considerazione Come idea Acquistereste più visione Dato che molti I suoi utenti Sono ex giocatori MMO Ed core Scusa per il discorso lungo Figurati Emanzi Grazie mille per il messaggio Allora sì Guarda Noi sicuramente Abbiamo preso In considerazione L'idea Di invitare degli ospiti Nelle prossime settimane Me ne occuperò personalmente Di fare Io personalmente Intendo fare delle live Con ospiti speciali Come già avevo fatto L'anno scorso Con Paolo Paglianti Anche l'idea di Curulili Sicuramente è un'idea Però considerate che Parliamo di una live Allora Sicuramente Fare una Se Riusciamo a organizzare Una live Con Curulili Sicuramente Questa live Avrà un grande successo Un sacco di utenti Ok Però parliamo di Una live Mentre invece Noi dobbiamo Trovare un modo Per Diciamo Rendere MMO.it Sul lungo periodo Perché Quello lì Ci può boostare Una live Due live Ma non è che ci può boostare Tutte le sere Quindi noi Diciamo che dobbiamo Dobbiamo reggere Dobbiamo camminare Sulle nostre gambe Ecco MMO.it Deve camminare Sulle proprie gambe Sicuramente Gli ospiti Sono una buona idea Andrea Certo Certo No Non otteniamo Non otteniamo Così tanto Da un'iscrizione O fiucco Purtroppo no Purtroppo no Magari Magari Mettei la firma Ecco Comunque Certo Roberto Con una live Ospite Ti fai conoscere Certo Infatti è una buona idea Puntare sugli ospiti Semplicemente Dicevo Un ospite Da solo non basta Bisogna puntare Su tanti ospiti Su quello Siamo d'accordo Comunque Io vi seguo Proprio per la vostra Professionalità Se un giorno Vi metteste a fare Video virali O vi metteste a parlare Tut'altro che videogiochi Allora cambierei canale Adoro che abbiate Una specializzazione Grazie Panfo Ma questo lo penso Lo penso anch'io E non intendiamo Non abbiamo alcuna intenzione Di diventare un canale Così Che porta robe a caso Ecco Perché abbiamo Identità editoriale E intendo Intendiamo Mantenerla Detto questo Eh lo so Andre di Andrea Ad esempio Consiglia di fare più live E scrivere meno sul sito E allora Se ragionassimo Se vogliamo ragionare Solo in termini Di ottimizzazione Sicuramente si Dovremmo Dovremmo Diciamo Impiegare Molto meno tempo A scrivere articoli Speciali Approfondimenti News Recensioni E molto più tempo A streammare Perché è da Twitch Che c'è Quelle poche entrate Che ci arrivano Ci arrivano da Twitch Quindi si Però mi dispiace Lasciar perdere Il sito MMO.it Lo dico a malincuore Eh anch'io Andre Anch'io No guarda Andre Adesso devo ammettere Che sulla questione Tecnica Non sono informato Anche perché Askez Che si occupa Degli ad di Google Io so Più o meno Che quelle sono le cifre Ecco Poi per il resto Ne parlerò Ne parlerò Con Askez Allora Sarebbe bello Una rubrica Di videogiochi Ad esempio Su WoW Dove ti fai Un PG da zero Lo cresci in live L'ho già fatto Dritto L'ho già fatto Io le ho fatte Le live su WoW L'anno scorso Io ho fatto decine Di live su WoW Classic Però raga Parliamoci chiaro Quelle live avevano 20 spettatori 25 spettatori Poi per carità A me fa più Io Quelle live Continuerò Comunque Cioè Le porterò Perché mi piace Portarle Però non sono live Dal grande successo Purtroppo Lo dicono i dati Lo dicono i dati L'uscita di Diablo 4 Anche secondo me Ci dà un bel boost Sarà Sarà una roba importante Infatti Non vedo l'ora Eh Beh Asmongold Io adesso Beh Basterebbe dire Che è americano Galatimus Quindi già una situazione Completamente diversa Perché uno stream americano Di fatto è internazionale Si rivolge A una potenziale platea Che è tutto il mondo Laddove invece In Italia Noi comunque Siamo Siamo pochi Ecco Non ti leggerà C'è attorno Comunque Io volevo leggere Questo famoso commento Anche perché poi Tra poco è mezzanotte Ma di mezzanotte Dobbiamo assolutamente Seguire la conferenza Dedicata a Dragon's Dogma Ragazzi Non staccate A mezzanotte Conferenza dedicata Al futuro Di Dragon's Dogma Allora Dicevo In un paio di settimane fa Nel salotto del 30 maggio Noi abbiamo ricevuto Alcuni commenti Che volevo leggere Perché secondo me Sono interessanti Ad esempio Questo utente Zoplinerol Ripeto Io non ce l'ho con lui Quindi non sono qui A dire Ah che cazzo ha scritto No no Anzi Lui ha Diciamo Ha dato un feedback Che anzi Assolutamente Molto interessante Come feedback E meno male Che c'è qualcuno Quindi lo ringrazio Per il commento Lui ha scritto Tornanzialmente Qui è nata Tutta una polemica Perché a loro Diciamo Questi utenti Avevano Questi utenti Questi commenti Precedenti Dicevano Che secondo loro Noi Abbiamo Abbiamo trattato male Alcuni giochi Come lo Stark Che V Rising Allora lui ha detto Zoplinero Il problema Non è distrugge I giochi o meno Il problema È giocarli Più di qualche ora E quantomeno Toccare l'endgame Che il gioco offre Altrimenti Facciamo le recensioni Di single play In cui si valuta Il viaggio Un MMO E viaggio E soprattutto Endgame Giustissimo Perché se voglio Leggere le recensioni Superfficiali In cui mi si offre Unicamente Quello che si tocca In fase di leveling E ciao Lo posso fare In qualsiasi sito Di videogiochi italiano Da un portale Specialista Mi aspetto Che mi si mostri Cosa offre il gioco Nella sua fase finale E soprattutto Possa rispondere Alla mia domanda Perché devo passare Del tempo A giocare per mesi A questo gioco Ormai per leggere Cosa un gioco offre È costretto A rivolgersi Sempre alla pseudo stampa E soprattutto Ai contenuti Che mostrano gli streamer Poi col mio post iniziale Ho voluto elencare Quali erano Quelli che pensavo Portaste Come reputo Li avreste affrontati Va bene eccetera Allora Io qui gli ho risposto Rileggo la risposta Perché è da qui Che appunto È da qui che è nata La mia idea Di fare la live Di stasera Ah buonanotte Ma non ti preoccupare Ci beccheremo Magari già domani sera Grazie mille Buonanotte Alla prossima Grande Allora io ho detto Se ho capito bene Allora se ho capito bene Tu vorresti vedere Contenuti approfonditi Scritti E video Su tutti i diversi MMO All'ingame Quindi ad esempio Recensioni fatte Dopo centinaia Di ore di gioco E streaming Che mostrano I contenuti Più avanzati E difficili Di un MMO Allora Aspetta un attimo Voglio Ecco Zoomiamo un po' Il tuo punto di vista È assolutamente rispettabile Ma ti faccio notare una cosa C'è un problema Che nessuno considera Produrre contenuti Così specifici Avanzati costa E costa tanto Che sia tempo O denaro MMO.it è un piccolo portale Indipendente E ogni giorno Cerchiamo di fare il possibile Con una piccola redazione E tantissimi argomenti Da trattare Forse tu pensi Che ogni mese Guadagniamo migliaia di euro Da poter reinvestire Ma ti assicuro Che non è così Quel che facciamo Lo facciamo Soprattutto per passione Dato che le cifre Che guadagniamo dal sito Purtroppo Sono molto piccole Quindi capisci Che diventa difficile Per fare un esempio Dire a un redattore Adesso giochi 500 ore A questa MMO Che magari non ti piace neanche Ti studi l'endgame Per due mesi E poi scrivi la recensione Diventa difficile Diventa complicato A meno che Il redattore Non venga retribuito Come un lavoro A tempo pieno Cosa che noi Purtroppo Non possiamo fare Poi ho fatto un esempio Ho detto Voglio dire Neanche MMORPG.com Massively overpowered Persino Persino Siti internazionali Che hanno milioni Di visite Non fanno queste cose In quanto Siti internazionali Guadagnano Almeno 100 volte Di quanto Guadagniamo Almeno 100 volte Più di quanto Guadagniamo noi E non sto esagerando Quindi Il punto qual è Il punto è che Noi di MMO.it Facciamo il possibile Nel nostro piccolo Con questo Eccetera Purtroppo la gente Non legge più In legge generale Ormai il futuro È fissato sulla dimensione Di video In particolare Sugli streaming Anche i grandi siti Fanno il grosso Degli utenti Tramite il video Le recensioni scritte Sono lette molto poco Purtroppo Poi lui Questo utente Che io Comunque ripeto Ringrazio Per il suo feedback Zoplinero Mi ha risposto Dicendo Guarda Plinius Io sinceramente Non ne farei Una questione di soldi E beh Però È sbagliato A mio parere Di non ne farei Una questione di soldi E infatti Io gli ho detto Ci sono un po' di cose Da considerare Poi prima cosa Tu citi curo Lili Che però È proprio L'esempio perfetto Di uno streamer grosso Nel senso Che lei lo fa di lavoro E ci guadagna Anche abbastanza Adesso io non so Esattamente quanto ci guadagni Non è mio interesse Fargli le pulci Però sicuramente Ci guadagna abbastanza Da viverci Noi no Tu Riferito all'utente di prima Tu dici che non è Una questione di soldi Però la verità È che cambia parecchio Se una cosa La fai per passione Mentre nel frattempo Nella vita Devi anche lavorare O se quello È ciò che ti fa vivere Cioè un conto È se è quello È il tuo lavoro Un altro conto È se è una passione Che fai nei buchi Nei tagli Di tempo libero Poi vabbè Ho continuato Di MMO.it Final Fantasy 14 Poi come ho scritto Che Come dicevo anche prima Per quanto riguarda I giochi non MMO In questo momento Viviamo in un periodo Di magra È uscito lo stack A febbraio Ma dopo lo stack Non è più uscito Praticamente nulla Quindi a mio parere Ci sta a portare Anche i titoli Di altro genere Magari i grandi Classici del passato Che sono sempre Apprezzati Questo è un esempio Ovviamente Comunque Torniamo al chat Ah Una luce accecante Anche bellissima La news Sotto d'ora Se ancora non l'avete letta Correte a leggerla Sì però Plinius Devi anche capire Che con un utente Che arriva su un portale Chiamato MMO.it Si aspetta determinate cose E non può essere La conoscenza Delle dinamiche Dei guadagni del sito Me ne rendo perfettamente conto Sasuke Me ne rendo perfettamente conto Però Al tempo stesso Credo che sia anche giusto Diffondere un po' di consapevolezza Cioè È assolutamente legittimo Che un utente La prima volta Che arriva su MMO.it Ovviamente Non può sapere Tutti i fatti nostri Su quanto guadagniamo Non guadagniamo Ma questo è normale Assolutamente Però io È giusto che lo dica Ragazzi Noi Non ci guadagniamo Comunque ci guadagniamo 4 lire Quindi lo facciamo per passione Assolutamente È una cosa Che ci piace Che ci dà Un enorme Orgoglio Una grande soddisfazione Però non si può neanche pretendere Che dedichiamo 20 ore al giorno MMO.it Nel momento in cui È una passione Perché purtroppo Dobbiamo Dobbiamo trovare Abbiamo un lavoro Almeno Almeno Ask Panni degli esperti Eccola Questa è la mia La mia onesta opinione Che ne so Esempio Stasera si parla Di Lost Ark Bene Io vi dico La mia onesta opinione Per quello che ho giocato Di Lost Ark Raga Io ho sempre fatto così Da 5 anni A questa parte Io non mi sono mai Messo su un piedistallo A dire che sono La voce La verità Certo Io ho una Una certa cultura Perché io Lavoro nel mondo Videoludico Da 11 anni Ho iniziato a lavorare Nel 2011 Lavorando per Spazio Games Poi ho lavorato Per altri siti Ho preso anche Il tesserino Di giornalista E poi ho fondato MMO.it Quindi Indubbiamente Diciamo C'è un C'è un background Perché lo faccio Da 11 anni Poi io non mi sono mai Alzato su un piedistallo Quindi Molto Diciamo che La tua Ti ringrazio Per il feedback Ray Però Io rispedisco Al mittente Questa accusa Perché io mi sono Sempre comportato Così Non sono quasi mai D'accordo con Askzer Ma comunque Competente Ed è sempre Piacevole Vedere il suo Punto di vista Ma taglio editoriale In realtà Ray Il taglio editoriale È quello che noi Siamo dei ragazzi Che diamo le nostre Opinioni sugli MMO Ed è sempre Stato così Noi non ci siamo Mai posti Come la verità Se voi andate a leggere Il progetto È sempre stato così Raga Tra l'altro noi abbiamo Sempre detto Sempre detto Adesso ve lo faccio Noi abbiamo Sempre detto Che le Le nostre recensioni Sono soggettive Questo l'abbiamo Questo è dal 2016 Ragazzi E questa pagina Non è che l'ho L'ho aperta ieri Questa pagina Di MMO.it Esiste dal 2016 Noi abbiamo Sempre detto Ragazzi Noi forniamo Le nostre opinioni Che sono Soggettive Quindi Insomma Io da questo punto di vista Rispedisco al mittente Le accuse Comunque Andrea Ma sì Indubbiamente Allora Il punto è Io potrei lavorare Per qualsiasi sito Di videogiochi in Italia Ma lo dico Senza vantarmi Cioè Semplicemente Io ho 11 anni Di esperienza Ho lavorato Per Spazio Games Sono il caporedattore Di MMO.it Con il mio curriculum vite Potrei entrare in qualsiasi Potrei entrare facilmente In qualsiasi Redazione Di qualsiasi sito italiano Però a me dispiacerebbe Abbandonare MMO.it È quello il discorso Quindi Io fino all'ultimo Perché questa è una realtà mia In cui credo E in cui ho speso Anni di fatica Sudore e lacrime Quindi fino all'ultimo Io cercherò Di puntare Di far crescere MMO.it Poi il giorno in cui Non ce la farò E Allora Alziamo bandiera bianca E ce la rendiamo Allora io Lì probabilmente Valgerò la possibilità Di andare a lavorare Per altri siti Non lo abbandoneresti Eh no È quello il problema Andrea Lo abbandonerei Perché se vai a lavorare Per multiplayer Non vai a lavorare Per multiplayer Così Per un articolo al mese Lo fai a tempo pieno Quindi Quindi quello è un problema Quando proponi Un form Il form Delle lezioni Già ti stai mettendo Da un lato Della catena Eh ma vedi Ray Ma allora parli Di Ask Zor Eh ma allora Lì dovresti parlare Con Ask Zor Perché io Non l'ho mai fatto Io ho sempre detto Ragazzi Io sono un appassionato Di videogiochi Di MMO E fornisco Le mie opinioni Poi certo Io studio Game Design Da undici anni Faccio questo lavoro Da undici anni Quindi Diciamo che C'è un background Di professionalità Dietro O meglio Spero che ci sia Spero che voi Vediate Una certa professionalità Una certa competenza Da parte mia Da parte nostra Però io Però io Ho sempre detto Raga Sono una persona normale Che fornisce le sue opinioni Ecco Anche perché Nel momento in cui I numeri sono questi Cosa dobbiamo fare Qui Oh tra l'altro È quasi mezzanotte Ragazzi Adesso chiudiamo questa parentesi E seguiamo la conferenza Di Dragon's Dogma Raga Qui stiamo parlando Di gente Che ha un background Nei videogiochi Di un certo spessore Quindi se in alcuni Videogiochi Magari non ci sono Dei contenuti Al core Come dice Plini È solo a causa Di una questione Di tempo Ma comunque Il loro background Gli permette di fare Un paragone E avere una opinione Onesta e professionale Ma si raga Molto semplicemente È ovvio che io Non posso Edicare migliaia di ore A ogni MMO Perché li devo provare tutti Allora Uno Cioè uno Riesce ad arrivare Uno riesce Può spendere migliaia di ore Su un MMO Se decide di dedicarsi A quell'MMO Ma se uno Bene o male Deve provare Tutti gli MMO Che escono E questo ad esempio È il mio caso È ovvio che poi Non riesco ad arrivare Non sono Un giocatore Hardcore Ad esempio Per fare un esempio Di Final Fantasy 14 E dici E certo Come faccio Ce ne manca più Il tempo materiale Ecco Ti si è preso Il mio primo messaggio Lo ripropongo Chiudete il sito Se non c'è abbastanza gente Che vi scrive news originali E dovete solo impazzire A rilanciare news Non vale la pena No abbiamo Chi scrive news Però appunto Abbiamo una redazione Una redazione Di collaboratori Che ci da una mano E che io ringrazio Però È un problema Di guadagni Nel senso che noi Quelle poche entrate Che otteniamo Non le otteniamo Dal sito Ecco Commentare Commentare su Twitch Le news Dei portali grossi Piuttosto Beh comunque Vi ringrazio per Ovviamente io Lo dico adesso Per non ripeterlo Continuamente Ringrazio Tutti i commenti Tutti i feedback Che mi state dando Che ci state dando Prima un abbraccio Ti posso dire Che ti ho seguito Dalla volta Che hai portato Dao Ah grande Dark Age of Camelot Grazie Grazie Andrea Allora Sicuramente Gli MMO Oggi sono in fase Calante Infatti il motivo Per cui non parliamo Solo di MMO Ma parliamo Anche di videogiochi In generale Ciao perché Gli occhieri da sole Gli occhieri da sole Buonasera Coyote Allora un po' Gli occhieri da sole Perché è simbolo Del portale Dei post umani No vabbè Scherzi a parte Non è vero Gli occhieri da sole Perché Per streamare Io tengo un faro Davanti alla webcam Cioè Voi siete qui No? Ecco Qui dove c'è la webcam C'è un faretto Avete presente il tipico Faretto da stream Per cui se io dovessi fare Uno streaming di tre ore Senza occhiali Dopo un po' Sono accecato Inoltre L'anno scorso Io ho fatto L'operazione Agli occhi L'intervento Avete presente L'intervento L'ASIC Per Per rimuovere La miopia E quindi Ho degli occhi Diciamo Delicati Mettiamola così Dritto Guarda Forse sei arrivato Tardi L'ho spiegato Già prima Perché non posso Dedicare tutto il giorno MMO.it Purtroppo Ed è un problema Familiare Banalmente Secondo me Just my two cents Devi pensare Prima a te stesso E poi al resto Se per la tua carriera Come giornalista Sarebbe meglio Scrivere per te Si farlo Senza manco Voltarti indietro Grazie a te Coyote E Fui ci penso Esti Ci penso E' un periodo Di grandi cambiamenti Quindi sicuramente Sicuramente Qualcosa cambierà Qualcosa succederà Nei prossimi mesi Però In conclusione Perché poi voglio Concludere questa live Per Per seguire La conferenza Di Dragon's Dogma Di Capcom Se posso essere d'accordo A me non mi piace Come Ask Zora affronta le cose Una specie di sgarbi Dei videogiochi Dice le cose In modo forte Ma si vede Che ci crede E che non dice cose Senza un background Di conoscenza Si dritto L'ho detto prima Forse sei arrivato In ritardo Purtroppo Non posso fare altro Perché Mia mamma Io Purtroppo Ho una mamma Malata di Alzheimer E quindi Devo dare una mano Ad accudirla Prima mia nonna E poi mia mamma E purtroppo Va così La mia famiglia È stata maledetta Dal morbo Di Alzheimer Ragazzi Ma infatti Io sono d'accordo Con Ask Allora ragazzi Qui dobbiamo deciderci Nel senso che O facciamo le cose Sempre Oneste Diciamo no Noi non esprimiamo Noi non esprimiamo giudizi Noi non diciamo cose Controverse E così facendo Facciamo dieci spettatori Facciamo dieci spettatori Perché ormai nel 2022 Questo è il web Allora Voi dovete Voi dovete concedere Il fatto che a volte Siamo un po' Dei personaggi Ask Zor È l'esempio perfetto Alcuni lo definiscono Lo sgarbi Dei videogiochi Ma meno male Che Ask Zor Sa fare il personaggio Sa fare lo show Perché oggi Se non fai lo show Su internet Fai due spettatori Non te se fila nessuno Questa è la verità Purtroppo Triste Ma è così E infatti Come dicevamo prima I canali Quali sono i canali Che hanno più seguito Che hanno più successo I canali che fanno di trash I canali trash Quelli che fanno Tutto E quindi ci vuole Un po' di show Un po' di spettacolo Altrimenti Non è neanche interessante Proprio la discussione Comunque Grazie 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 ragazzi Per la solidarietà E ricambio Volevo dire Eh cazzo Volevo dire una cosa Ah si Ecco In conclusione Siamo arrivati Al termine Di questa live Che è comunque Durata due ore Ragazzi Ma io voglio dire Una cosa Allora Prima di Pensare Se abbandonare MMO.it Pensare a me stesso Andare a scrivere Per altri siti Che certo Sono tutte opzioni Viabili Però prima di farlo Cerchiamo di far crescere MMO.it Che ne dite E non è una cosa infattibile Perché io ve l'ho detto Qual è il nostro obiettivo Il nostro obiettivo È riuscire a ottenere La partnership Su Twitch Cioè diventare Partner Allora per diventare Partner Guardate che a noi Non manca tanto A noi manca pochissimo Siamo molto vicini A diventare partner Perché noi già Rispettiamo Due requisiti Su tre Per diventare partner Ve li ho detto prima Quali sono L'unico requisito Perché Ve li leggo Velocemente Noi rispettiamo Ci sono tre requisiti Per diventare Switch partner Primo Trasmettere per almeno 25 ore Già lo facciamo Secondo Trasmettere per almeno 12 giorni diversi Già lo facciamo Nel mese ovviamente Si parla Nell'arco di un mese E avere una media Di 75 spettatori Questa è l'unica cosa Che ci manca Ma se noi Crescendo Riusciamo a ottenere Quella media Noi otteniamo La partnership Su Twitch E a quel punto Cambia tutto E ci manca poco Ragazzi Perché i nostri salotti Già fanno quei numeri Quindi noi dobbiamo Semplicemente Continuare a crescere E salire E nel frattempo Invitare anche degli ospiti Come giustamente Mi avete proposto voi E quindi si Io dico Ragazzi Proviamoci Buonasera Anche a Rimask Si è connesso adesso Benvenuto Proviamoci Perché nel momento Se noi davvero Riuscissimo a diventare Twitch partner Li cambia tutto E ovviamente Io preferirei Dedicare La mia fatica E il mio tempo E le mie energie A una cosa nostra Che abbiamo fondato noi Un progetto in cui Crediamo veramente Come MMO.it Piuttosto che andare A scrivere Per un sito esterno Io l'ho già fatto Io per 5 anni Ho scritto Per Spazio Games È stata una bella esperienza Però Se devo fare Il subordinato Di qualcuno Preferisco impegnarmi Per un progetto mio Capite? Io se fossi in voi Raddoppiare il salotto Due volte a settimana È un'idea Saski Ne devo parlare con Askezo Povero Askezo Voi dovete considerare Che lui già Lavora Lui ha un lavoro Anche abbastanza faticoso Lavora al Politecnico Di Torino Quindi lui Dedica il tempo libero Quando può Al salotto Però Mi dispiace anche Chi è lì Di Di avere Dei Insomma Di aumentare Ancora di più I suoi ritmi Che già Ha dei ritmi Abbastanza massacranti Però sicuramente Gli parlerò E poi se non fosse Askezo Vuol dire che Li farò io Farò più live E soprattutto più live Con ospiti Voglio la festa Quando diventate Twitch Partner Promesso Galatimus Quando diventiamo Twitch Partner Facciamo una festa Facciamo una maratona Devastante Ragazzi Devastante Promesso Pensare MMOI Chiuso Mi viene Una tristezza Una bella realtà Eh lo so Zero Ma ce la faremo Ragazzi Ce la faremo Io Plini L'ho conosciuto Grazie Stefania Di Spazio Games Grande Grande Stefania Ciao Mi sono collegato Da poco Comunque io ti seguo Da tempo E mi piace molto Come lavorate Spero che continuate Il progetto Perché lo trovo Molto interessante Purtroppo ormai Questi tipi di siti E contenuti Sono considerati Vecchi per molti Soprattutto i più giovani E ci sta Lepanto ci sta Allora ragazzi Che dire Mancano due minuti Quindi direi Torniamo a schermo intero Ma non ve ne andate Perché la serata Non è finita Eccoci Allora ragazzi Tra due minuti Lo sapete cosa comincia? Comincia la conferenza Di Capcom Dedicata a Dragon's Dogma Il futuro di Dragon's Dogma Allora Lo annunceranno Dragon's Dogma 2 Oppure no Oppure no Adesso Adesso chiudo questa live E così seguiamo la conferenza Grandi ragazzi Grandissimi ovviamente Grazie mille di cuore A chi ci ha supportato A chi continua a supportarci Anche per tutti i feedback I commenti di stasera Ho apprezzato Eh lo so Esti Lo vedo Lo vedo Infatti davvero Grazie mille Dal mio cuore E come vedete Non è un caso Che sul cuore C'è mmo.it Quindi Grandi ragazzi Non ve ne andate Stacco riattacco Un minuto E seguiamo la conferenza Di Capcom Dai Ce la faremo comunque Prima o poi Otterremo la Riusciremo a diventare Twitch partner Grandi ragazzi Bisogna belivare Bisogna crederci Torno subito Non ve ne andate Connessi A giornati Massivi Grandi Grazie mille